All'interno dei soggiorni giocamondo sono presenti numerose figure specializzate, dal responsabile sportivo all'assistente, fino allo staff medico-sanitario, per garantire ai ragazzi un servizio efficiente e curato nei minimi dettagli. Tutte le attività ideate allo staff giocamondo per le specifiche fasce d'età rispettano tempi e spazi. Durante tutto il soggiorno le attività proposte contribuiscono a rendere interessante l'offerta ludica e formativa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.